Questo che vedete è un prato particolare, innanzitutto non è stato mai innaffiato e come vedete è in piena salute, gatto, i fiori, gli insetti ed è fiorito per tutta l'estate. La nostra storia è trentennale come vivaio ma nel 2011-2012 abbiamo cambiato la nostra tecnica e abbiamo cominciato a studiare le piante resistenti all'essicità. Questo l'abbiamo fatto perché il clima sta cambiando, noi abbiamo poco disponibilità d'acqua nei nostri pozzi e quindi siamo stati quasi costretti. Per fare il prato di sana pianta di questo genere bisogna innanzitutto scavare in profondità almeno 30 centimetri. Questo favorisce l'assimilazione dell'acqua piovana e la penetrazione delle radici che la vanno a prendere negli strati profondi. Questo è un terreno che è già stato lavorato in profondità, è stato sminuzzato e ora siamo pronti per piantare. Dieci piantine per metro quadrato saranno sufficienti per fare il nostro prato. Quando si pianta è importantissimo coprire tutto il pane di coltivazione perché da lì l'acqua potrebbe evaporare con facilità. Quindi non interessa se rimangono solo fuori pochi rami della pianta ma è importante che sia ben coperta. Con le tecniche giuste e con le piante giuste possiamo arrivare a dei risparmi idrici fino all'80%. Oltre a risparmiare l'acqua si risparmia anche sulla manodopera perché non irrigando frequentemente e non dando tanti chimici, i concimi primis, le piante sviluppano in maniera naturale e quindi c'è bisogno di pochissimi sfalci fino all'80% in meno. Dal giardino all'orto è la filosofia la stessa, ridurre il consumo dell'acqua. Questi pomodori mai innaffiati.